Sì? Beh, 43 Spiro. Favorevole. 44 Matarrese. Sono appena arrivati e io chiedo due minuti per leggerli. Sono arrivati in questo momento. Va bene, prendiamo tempo. Diamo tempo alla sottosegretaria di verificare. Intanto volevo sapere dai delegati dei gruppi se, come mi fa segno l'onorevole Fontana, per quanto riguarda il Partito Democratico sono accolte tutte le riformulazioni e non si chiede il voto per nessuno. Bene, ci sono altri gruppi che la pensano allo stesso modo. Onorevole Cozzolino, prego. Presidente, li accogliamo, a parte qualcuno che interverrà mentre leggerà gli ordini del giorno. Molto bene. Ci sono altri o vedremo... Onorevole Zaratti, prego. Per lei vanno bene tutte le... Allora io sto sempre continuando a consentire al sottosegretario, che ringrazio, perché stiamo improvvisando insieme. Parere favorevole a entrambi. Molto bene. A questo punto possiamo procedere. Onorevole Pastorelli, mi diche. La accetta la riformulazione. La accetta? Sì. Bene. Allora, andiamo con gli ordini del giorno. Vico, accolto. Mongello, accolto. Valiante, accolto. Vargi, accolto. Va bene? Ok. Benedetti, c'è una proposta di riformulazione. Va bene? Ok. Businarolo, riformulazione. Onorevole Costinelli, prego. Grazie, Presidente. Accogliamo la riformulazione, però vorrei depositare il mio intervento esplicativo in ordine, appunto, all'ordine del giorno. Lo deposito. Vignaroli, favorevole. Terzoni, favorevole. Gallinella, favorevole. Gagnarli, favorevole. Bernini, prego. Sì, grazie, Presidente. Io veramente non comprendo questa riformulazione a valutare l'opportunità di... Allora, nell'articolo 7...